Taglio del nastro dedicato all'Europa per il Pisa Book Festival, il salone dell'editoria indipendente in corso fino a domenica con una diciassettesima edizione che è un vero viaggio letterario nel continente europeo, 160 gli editori presenti, oltre 200 gli eventi, ospiti italiani e internazionali da Catherine Dunn a Sasha Naspini, da Bjorn Larson a Giampaolo Simi, ad aprire la Kermesse la Lectio Magistralis dell'autore pisano Marco Malvaldi, dedicata all'importanza della scrittura e al ruolo cruciale degli editori. Tutti più o meno scriviamo, tutti più o meno sogniamo un giorno di poter essere letti. Essere pubblicati è un'altra cosa e molto spesso grandi, grandissimi libri passano all'inizio da piccoli editori. Quest'anno è il centenario di Primo Levi, della nascita di Primo Levi, che ha iniziato il suo percorso letterario con una casa editrice minuscola presieduta da Franco Antonicelli nel 1947 perché tutti i grandi editori avevano rifiutato il suo libro e si sta parlando di se questo è un uomo, probabilmente del capolavoro della narrativa del dopoguerra italiano. A di inaugurare il festival anche la vicepresidente della Toscana Monica Barni, che ha sottolineato l'importanza di sostenere i libri e la lettura in un momento come questo, dove la cultura è sotto attacco, come dimostra l'incendio alla libreria indipendente di Roma, la pecora elettrica, già vittima di un rogo doloso lo scorso 25 aprile. Questo pomeriggio siamo qui ad aprire Pisa Book Festival. Credo che queste siano le risposte migliori contro chi ha paura dei libri, contro chi ha paura della cultura. Noi siamo vicini alla libreria indipendente della pecora elettrica e continueremo sempre di più nelle nostre politiche perché la cultura è la base della democrazia. La scelta di non avere un singolo paese ospite ma di dedicare il Pisa Book Festival alle letterature provenienti da tutta Europa va proprio nella direzione di costruire ponti tra culture diverse. Abbiamo fatto questo, come dire, un contraccolpo a questi sovranismi e abbiamo deciso di ricordare un po' a tutti le radici comuni che abbiamo, che sono le radici culturali e poi non c'è niente più del libro e dello scrivere, della letteratura che unisca un po' tutti i popoli. E quindi questa sfida di fare questo viaggio letterario con gli autori ci è piaciuta moltissimo e credo che il risultato sarà un successo soprattutto per il pubblico. Tra gli eventi da non perdere lo speciale omaggio al diario di Anna Frank e la celebrazione dei 30 anni della caduta del muro di Berlino. Tanti gli autori toscani presenti da Valerio a Ioldi a Sandro Veronesi ma c'è spazio anche per gli esordienti come la pisana Valeria Sara Papini che nel suo L'ultimo sacerdote costruisce un thriller ambientato sulla L'Amiata e incentrato su Davide Lazzaretti. È un personaggio realmente esistito che aveva vissuto su L'Amiata nel 1800 e è stata una figura carismatica perché in una piccola comunità è riuscito a costituire una comunità religiosa che sembra ad oggi ancora esistere con qualche esponente. È interessante perché faccio scoprire, spero che il lettore si diverta a scoprire posti nuovi, posti belli, posti che appartengono alla mia infanzia.